Per quanto non esista uno strumento vero e proprio per creare animazioni all'interno del flusso di lavoro della Digital Publishing Suite, possiamo comunque creare una sequenza di immagini. Le sequenze di immagini sono delle sovrapposizioni interattive che ci permettono di ottenere effetti diversi. Ad esempio possiamo prendere un estratto, un piccolo video e tradurlo in tanti frame che potranno poi essere mossi semplicemente toccando e trascinando. O ancora possiamo creare degli oggetti tridimensionali dando la sensazione all'utente di poter interagire con essi ruotandoli e quindi vedendoli in tutta la loro interezza. Questi sono alcuni esempi di cose che si possono ottenere con questa sovrapposizione interattiva. Per ottenere queste sequenze si possono usare diversi software come ad esempio After Effects per la creazione di video e quindi la successiva esportazione in sequenza. O ancora Photoshop che nella sua versione Extended ci permette di gestire file 3D e di esportare successivamente come sequenza di immagini. In questo caso io sono partito da un'illustrazione, da una piccola infografica fatta in Illustrator e semplicemente ho gestito gli oggetti che dovevano spostarsi nel tempo, diciamo così, attraverso l'uso di livelli. Come vedete accendendo e spegnendo questi livelli si disattivano gli oggetti sull'illustrazione, sull'infografica. Successivamente ho esportato il documento in formato Photoshop a livelli. Facendo attenzione di mantenere appunto l'esportazione dei livelli. Aprendo poi il file in Photoshop ecco che questi sono i livelli riportati così come avevamo visto prima in Illustrator e adesso posso esportare tutti i livelli fino ad ottenere appunto una sequenza. I formati grafici disponibili per creare una sequenza di immagini sono il formato JPEG e il formato PNG. Ovviamente il formato PNG a fronte di un peso maggiore ci permetterà di utilizzare immagini con trasparenza. Iniziamo quindi creando una cornice, assicurandoci che questa abbia le stesse dimensioni delle immagini della sequenza. In questo caso impostiamo una larghezza di 600, dopodiché l'altezza la andremo a regolare in un secondo momento. Selezioniamo questa cornice e andiamo sul pannello Folio Overlays. Clicchiamo quindi sull'opzione Sequenza Immagini. Come prima cosa dobbiamo selezionare una cartella che contenga immagini con lo stesso nome e una sequenza numerica progressiva. Questa è una caratteristica fondamentale senza la quale InDesign non è in grado di capire che quella che stiamo caricando è una sequenza di immagini. In questo caso abbiamo una nomenclatura e una sequenza numerica coerenti. Clicchiamo su Apri ed ecco che automaticamente verrà utilizzata la dimensione della prima immagine della sequenza per regolare la dimensione della cornice che la contiene. Possiamo decidere di mostrare la prima immagine come immagine poster o immagine di riferimento. Diversamente possiamo disattivare quest'opzione e far affiorare un'altra immagine sottostante, nel caso appunto volessimo creare un effetto particolare. Scegliamo quindi di mostrare la prima immagine all'inizio. Come per altre sovrapposizioni interattive, possiamo scegliere di attivare la riproduzione automatica ed eventualmente regolare un ritardo prima della riproduzione. In più, qui possiamo scegliere anche la velocità che è espressa in FPS, ovvero fotogrammi per secondo. Il suggerimento che vi do è di utilizzare come fotogrammi per secondo lo stesso numero di immagini che avete nella sequenza. In questo caso ne abbiamo 8 e quindi inseriremo il valore 8. Per ottenere animazioni fluide è suggeribile utilizzare un minimo di 30 fotogrammi per secondo. Quando però facciamo queste scelte, cioè decidiamo se avere un'animazione più o meno fluida, teniamo sempre conto che questo tipo di oggetto va a incidere pesantemente sul peso totale della nostra applicazione. Quindi facciamo sempre delle valutazioni ponderate e se non necessitiamo della trasparenza utilizziamo il formato JPEG con una compressione adeguata. Possiamo poi decidere se riprodurre una o più volte o in ciclo continuo. Possiamo inoltre decidere se interrompere la sequenza sull'ultima immagine oppure proseguire. Un'altra cosa interessante per questo oggetto è la possibilità di trascinare con il dito per cambiare l'immagine. Questo ci permette di interagire direttamente con l'oggetto. In questo caso lasceremo attiva questa opzione. È possibile inoltre interrompere alla prima e all'ultima immagine della sequenza, ovvero evitare di andare oltre l'ultima immagine o prima della prima immagine. Infine, riproduce al contrario, inverte l'ordine di riproduzione. Andiamo subito a visualizzare l'anteprima con Adobe Viewer. Come vedete, abbiamo riprodotto in automatico l'animazione, ma è inoltre possibile toccare e trascinare questa sorta di cursore e andare a visualizzare tutte le tappe riportate su questa infografica. Grazie. Grazie.